Mi è piaciuto, ho avuto un po' di difficoltà, ma mi è piaciuta. Io sono Angela, mi sono ritrovata in molti punti di queste situazioni che hanno presentato e voglio continuare, voglio continuare perché mi sta dando tantissima sicurezza. Sono Andrea e dopo la prima lezione era un po' quello che cercavo, nel senso che arrivo anche io dal mondo delle arti marziali che pratico, ho fatto tutto molto impraticabile nella vita comune, quindi anche un po' la ricerca tecnica, la mia, e devo dire che sono soddisfatto di questo primo approccio, è proprio quello che mi prefigge di trovare. Ciao a tutti, sono Riccardo, io vengo invece del mondo della strada in quanto City Angel e mi è piaciuta molto questa lezione, grazie a tutti di essere stati qua e alla prossima. Os Davide, anch'io come Riccardo sono City Angel, ho praticato arti marziali per più di 15 anni e la cosa bella del wilding è l'approccio psicologico che è fondamentale, soprattutto per strada. C'è una bellissima energia in questo gruppo, vi ringrazio tutti. Os! Sono Riccardo, mi è piaciuta molto la parte teorica, psicologica e la pratica per uscire dalle cose che si fa di solito, nel senso, vedersi anche dalla parte dell'aggressore, quant'altro. Per cui, questo è. Os! Os Sergio, è stato un piacere condividere con voi queste tre ore, è sempre bello apprendere nuove cose da Mario, grazie per la giornata. Os! Os! È un misto di sensazioni quello che si prova confrontandosi con persone che non siano mai viste e comunque ogni esperienza porta cose buone da portarsi avanti come bagaglio della vita, quindi vi ringrazio per poterlo condividere con voi. Os! Os! Salve a tutti, sono Flavio, sono contento di aver partecipato a questo corso perché queste informazioni sicuramente ci permettono di vivere meglio e insieme. Os! Sono Maria Grazia, sono molto interessata a questo corso, penso che avere più sicurezza mi aiuterà moltissimo, grazie a tutti. Os! Os! Sono Marco, mi è piaciuta molto questa giornata, all'inizio ho avuto un po' di vergogna ma non credo che c'è la mano. Os! 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 Ciao a tutti, sono Elisabetta, sono molto contenta e soddisfatta di questo corso, secondo me dovrebbe essere preso anche come una prevenzione in generale comunque ecco, grazie a tutti, voi grazie. Os! Os! Ciao a tutti, sono Enza e sono molto contenta, come diceva lei, di questo corso, ne ho fatti altri ma questo mi dà un grande coinvolgimento emotivo a prescindere dal fisico e un grazie particolare al coach perché è molto coinvolgente veramente, grazie. Os! Ciao a tutti, io sono Cinzia e per me è stata una bellissima esperienza aver conosciuto il coach e aver conosciuto tutti voi e la voglio approfondire ancora. Os! Os! Ciao a tutti, sono Marco, beh io sono il bis, visto che vi faccio tutto l'anno, sono contentissimo di chi conosceva già l'anno scorso e di averlo ritrovato, faccio un grande augurio anche ai nuovi che ho conosciuto oggi con grande piacere e benvenuti. Os! Ciao a tutti, sono Franco, sono veramente soddisfatto della lezione di oggi perché ci sono delle letture in chiave psicologica che sono sicuro ci permetteranno di tirar fuori quelle risorse che magari non conosciamo ma ognuno di noi ha e ha la capacità di trasformare poi nell'azione di tutti i giorni. ne sono certo perché lo so. Os! 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 Sono Riccardo, sono molto contento del corso e sono venuto qui dopo aver letto il libro di Mario ma vederlo in azione come coach è stato molto bello. credo che queste cose andrebbero insegnate al pari dell'educazione civica o di altre materie. si è fatto un sacco di studi sul mondo animale che ci vediamo da Piero Angela alla sera ma chi sta sulla strada come i City Angel magari invece ci fanno vedere che apparteniamo a quel regno lì e che possiamo evitare anche i guai in modo assertivo come abbiamo visto un'altra cosa. Oh! Ciao a tutti sono Daniele io sono sempre felice di fare queste serie con Mario e sono sempre felice di conoscere nuove persone e a me queste lezioni servono perché mi fanno vivere sempre meglio la vita e con queste persone che mi prendono in giro oppure che mi assalgano posso rispondere conoscere. Posso veramente derivare a fan puro. Allora anche io ho fatto metà del corso dell'anno scorso e mi è stato molto utile io ho come forse alcuni hanno notato questo problema dell'autocontrollo infatti mi parte il pugno, chiedo scusa adesso ho avviato un pugno nella pancia non riesco tanto è su questo su cui devo lavorare e basta speriamo mi impegnerò. Oh! Ciao a tutti sono Andrea anche io arrivo dall'arte marziale sport da combattimento e finalmente ho trovato un corso dove c'è l'approccio psicologico che è quello che viene trascurato in tutti gli altri corsi e stage vari che ho fatto e sono veramente soddisfatto. Grazie mille. Oh! Ciao sono Mauro anche io ho fatto un po' dell'anno scorso come al solito la parte psicologica è molto interessante c'è una bella energia grazie a tutti e grazie Mario. Oh! Ciao io sono Barbara sono una mental coach a me manca la parte pratica quindi questo corso mi serve indubbiamente per l'aspetto pratico e ringrazio a tutti per la grande energia. Oh! Oh! Ciao a tutti sono Emilio mi sono deciso di iscrivermi a questo corso dopo una questione non gestita al meglio dal punto di vista psicologico e quindi cercavo ecco delle risposte appunto a come si fronteggiano certe situazioni dal punto di vista psicologico e ho visto già che molte di queste risposte sono arrivate e in più vi dico forse la sensazione che uno sente quando succedono queste cose di essere l'unico a subirle invece il fatto di vedere ci sono tante altre persone che cercano le stesse risposte ma sentire già più sicuri. Oh! Ciao sono Caterina la parte teorica e pratica del wilding defense me l'ha insegnata mia mamma calabrese. Ora sono qua per mettere le basi e dare una quadratura a tutto. Grazie. Oh! Ciao a tutti sono Barbara mi è piaciuto tantissimo questo corso perché ho provato anche paura veramente e disagio e quindi è assolutamente utile trovarsi in questa dimensione per imparare la difendersi qua non succede davvero visto che purtroppo capita. Grazie a tutti. Oh! Ciao a tutti sono Ingrid e non è la prima volta ma vedo che comunque c'è sempre qualcosa da imparare soprattutto conoscendo gente nuova e rapportandosi con situazioni diverse. C'è l'aspetto psicologico e quello pratico molto interessante e spero di continuare ad imparare qualcosa di nuovo e utile. Oh! Ciao a tutti sono Mimmo vengo dal mondo di CityEngine anch'io e conosco bene Mario e già ho frequentato l'anno scorso una volta e stavolta pure e credo che approfondirò la cosa perché è molto interessante sul lato psicologico e fa bene anche diciamo anche fisicamente e internamente. Grazie a tutti. Oh! Ciao io sono Ivan, io lavoro nel mondo della formazione, pratico arti marziali e sport a combattimento da oltre 20 anni o mai ne ho 38 purtroppo. questa è sicuramente l'esperienza più bella che ho vissuto in vita mia e che condensa entrambe le dimensioni quindi la formazione da una parte e la difesa personale dall'altra. Grazie a Mario, grazie a tutti voi. Grazie a voi perché avete voluto investire su voi stessi questa domenica mattina. Siete davvero un bel gruppo anch'io, come altri hanno detto ho notato una bella energia. Poi ogni volta che c'è un corso di Wilding nascono amicizie e ci si trova anche fuori e questo è molto bello. Un modo per tenerci in contatto è Facebook, c'è chi è mio amico su Facebook, c'è chi ha messo mi piace sulla pagina Wilding, c'è la pagina Wilding su Facebook che serve per scambiarci opinioni, per condividere. Il Wilding, come avete capito anche in una sola lezione, è qualcosa che riguarda ogni aspetto della vita, è molto di più in arte marziale, infatti non è un'arte marziale. Presto avremo i nostri primi quattro istruttori di Wilding, avremo il corso a Milano, come dicevo, a novembre. Verranno uno da Andano, uno da Torino, uno da Goizia e uno da Treviso, in modo che il Wilding si possa diffondere. È una cosa che faccio perché ci credo. Ho voluto tenere i prezzi i più bassi possibili, per cui chi fa tutto il corso, il ciclo di sette lezioni, sono 195 euro, che è una cosa ultra popolare e accessibile a tutti, perché si possa divulgare. Prima di cominciare a insegnare Wilding, per tanti anni ho fatto attività di formazione, cosa che faccio ancora. Poi ho aggiunto il Wilding, collegato alla formazione. La mia più grande soddisfazione è quando vedo persone che nei corsi di formazione, nei corsi di Wilding, che comunque hanno formazione, dicono sai, grazie ai tuoi corsi mi sento più sicuro, mi sento più assertivo, vado più d'accordo con gli altri, ho minto le mie paure. Ecco, per me questa è la soddisfazione più grande, quindi grazie a voi perché mi date questa soddisfazione. Il prossimo incontro dei sette è a dicembre, adesso non mi ricordo che è domenica 13. Domenica 13, numero fortunato. Quindi ci vediamo lì, stesso posto, stesso ladio, se volete portare amici. Come vedete il Wilding è aperto a chiunque, anche gente che non ha mai avuto nessuna esperienza di autodifesa, di arti marziali, dai 12 anni in su, va bene a chiunque, per chiunque, è una bella scuola di vita. Grazie.